Il siciliano Giuseppe Raciti, chef a Catania, il piemontese Paolo Griffa, impegnato in Francia, Martino Ruggeri, attualmente head chef a Parigi e Roberta Zulian, chef a Madonna di Campiglio. Sono i quattro concorrenti che parteciperanno alla selezione italiana del Bocchius d'Or, concorso mondiale di alta cucina, in programma il 1 ottobre ad Alba in occasione dell'inaugurazione della Fiera Internazionale del Tartuffo Bianco d'Alba. La presentazione alla Scuola della Cucina Italiana di Milano ha offerto la possibilità di presentare anche l'Accademia Bocchius d'Or Italia. Oggi abbiamo finalmente presentato l'Accademia Italiana Bocchius d'Or, abbiamo presentato al pubblico e ai giornalisti quattro candidati che andranno a fare a ottobre ad Alba la finale italiana e da lì ne sceglieremo uno che vincerà, colui che vincerà lo accompagneremo insieme al nostro gruppo, all'Accademia Italiana Bocchius d'Or, fino ad arrivare a Torino 2018 per la selezione europea. L'obiettivo è quello di riuscire a portare l'Italia ad una posizione consona a quella che è, perché con tutto il nostro patrimonio di ricette, ingredienti, biodiversità, non possiamo non dire la nostra anche lì. La selezione italiana di Alba farà da preludio alla finale europea che si terrà nel 2018 a Torino, prima città italiana a ospitare l'evento. Il premio Pocchius, sia nell'edizione italiana che faremo ad Alba, sia nell'edizione europea che faremo a Torino, è una cosa fortemente voluta dalla regione Piemonte per continuare in questo lavoro di fare del Piemonte il punto di riferimento a livello nazionale e internazionale sull'enogastronomia, ma anche proprio sulla cultura del cibo e dell'alimentazione.